Buonasera, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Grazie per essere qui con noi questa sera in questa nuova puntata di Prima News Focus. In primo piano questa sera un argomento che riguarda davvero sempre più persone che scegliono di farsi tatuaggi o piercing. Questo perché in Piemonte abbiamo adesso una nuova legge che regola proprio l'attività e gli operatori che fanno tatuaggi e piercing. Una novità proprio degli ultimi giorni. Noi ne parliamo con Sara Di Sabato che è la relatrice di questa legge che è capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Parliamo proprio un po' del significato di questa legge. Perché e che cosa va a legiferare? A questa legge si muove su due filoni. Il primo è quello di dare delle regole a quella che è l'attività di tatuaggio e piercing. Fino ad oggi la regione non aveva una norma ad hoc per dare delle linee guida agli operatori e le operatrici che intendono intraprendere questo tipo di attività. Però si conformava a quello che è un dettato nazionale che in realtà non esiste. Però c'era una grossa contraddizione. Se per diventare parrucchieri estetistici vanno diversi anni di formazioni dai due ai tre anni, più ovviamente la pratica presso attività e quant'altro, per fare i tatuaggi nella nostra regione bastavano 90 ore di corso teorico pratico. Praticamente nulla. Neanche teorico pratico, in realtà più di disciplina sanitaria. Corso igienico sanitario che serve appunto per apprendere quelle che sono le norme in materia di tutela della sanità e della salute dei cittadini. Questa ovviamente è una tutela soprattutto per chi poi riceve questi tatuaggi. Esattamente. Noi con questa legge abbiamo voluto dare un obbligo formativo per gli operatori e le operatrici, come dicevo prima. Si tratta di 1500 ore per chi intende intraprendere l'attività di tatuaggio e 500 per l'attività di piercing. Questo vuol dire che le 90 ore che c'erano in precedenza vengono assimilate da quello che è un corso formativo molto più articolato che contiene al suo interno sia la tutela della salute, quindi il corso igienico sanitario, quello che già era incluso, in più un corso teorico pratico proprio per l'utilizzo dei macchinari, per l'esecuzione dei tatuaggi, quindi per migliorare quella che è la manualità e l'esecuzione del tatuaggio stesso. Stessa cosa varia per i piercing che invece vedranno appunto un corso di 500 ore. Ecco, dopo volevo parlare proprio un po' nello specifico anche di quali saranno bene i cambiamenti che ricordiamo saranno in voga tra quanto? La legge verrà pubblicata sul bollettino a breve, quindi in realtà si tratta veramente di pochissimo tempo, però dovrà entrare in vigore un regolamento attuativo perché esattamente nella legge è previsto che venga dato un regolamento per disciplinare sia il percorso formativo che ovviamente i requisiti per accedere ad un'altra prestazione, che è il secondo filone di cui parlavo prima, che è quello del tatuaggio per pigmentazione del complesso areola capezzolo per le persone operate di tumore alla mammella. Infatti proprio di questo volevo parlare perché quali sono le novità? Le novità appunto con un articolo che è l'Ottobis, l'abbiamo istituito d'Occ, la regione renderà gratuito questo tipo di prestazione, che prima invece era a pagamento per le persone che ovviamente volevano ricorrere ricorrere al tatuaggio per ridisegnare il complesso areola capezzolo a seguito di interventi di mastectomia. Che non è appunto la ricostruzione della mammella ma è l'areola. Esattamente, quella viene fatta di default durante gli interventi per l'asportazione di masse cancerose, quindi quello è già a carico del sistema sanitario. Quello che non succedeva è che appunto le persone sottoposte a questi tipi di interventi non ricevevano la pigmentazione del complesso areola capezzolo, questo perché spesso volentieri l'operazione comporta anche l'asportazione del capezzolo che non diventa più recuperabile, quindi in realtà si perde decisamente oppure rimane però perde il suo pigmento naturale. Il tatuaggio serve proprio a livelli estetici a ridare la forma al capezzolo, quindi cancellare i segni fisici e psicologici della malattia. Ecco, proprio per capire il significato bene e l'importanza di quanto abbiamo detto adesso proprio su questo aspetto. Noi abbiamo in collegamento Franco Greco e Monica Schina di Casa Brest. Ecco, buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera. Prima di tutto vi chiedo che cos'è Casa Brest, così lo spieghiamo un po' a tutti. Poi volevo capire proprio l'importanza di questo tipo di tatuaggio. Bene, allora io insieme a Monica sono uno dei fondatori di Casa Brest, che è un'associazione di volontariato che è stata fatta nascere in seno alla Brest Unit dell'ospedale Cottolengo di Torino. siamo tutti e due dei pazienti. Io ho avuto un tumore alla mammella, anche se sono uomo, c'è un'incidenza dell'1% a livello nazionale anche che riguarda purtroppo gli uomini. l'associazione sta supportando, è nata per supportare i pazienti che fanno un percorso di cura di un tumore al seno in tutte le fasi che in qualche maniera ci riguardano, dalla fase diagnostica alla fase chirurgica alla fase terapeutica, passando per n reparti, nel nostro caso fortunatamente tutti all'interno dell'ospedale Cottolengo. Quindi riusciamo ad avere un percorso continuo dove non ci sono deviazioni e soprattutto sfruttiamo il lavoro di staff medico che è molto apprezzato per i risultati anche che sta dando, che ha dato e che darà. Quindi per noi è un ruolo, quello nostro è un ruolo soprattutto di esempio per i nuovi pazienti che arrivano in ospedale con una nuova diagnosi di carcinoma mammario e noi abbiamo un team di soci che presidiano il DH oncologico e che accolgono i nuovi pazienti che magari devono iniziare a fare percorso di chemioterapia che viene svolto appunto in reparto direttamente in ospedale da noi e portiamo la nostra esperienza, quella personale con cui siamo stati diagnosticati, operati e poi anche supportati con le terapie. No, complimenti davvero perché il vostro è un ruolo fondamentale sicuramente di supporto proprio per chi ha bisogno. Parlando proprio invece della ricostruzione dell'areola abbiamo detto appunto queste novità che ci saranno, questi finanziamenti anche per quanto riguarda la legge sui tatuaggi perché è così importante? Ma è così importante? Innanzitutto ringrazio la consigliera di sabato che ha coinvolto Casa Brest a partire da maggio dell'anno scorso nel commenti alla legge Casa Brest in quanto ODV esponente della società civile è stata invitata nella persona del suo presidente il dottor Riccardo Bussone e la sottoscritta a essere presente ad una seduta del consiglio abbiamo Casa Brest ha poi fornito dei commenti al testo della legge per rispondere alla sua domanda perché è così importante perché una donna quando inizia il percorso terapeutico con la chirurgia soprattutto con una mastectomia è disposta a qualsiasi cosa per risolvere il suo problema velocemente col passare del tempo si accorge che ha dovuto rinunciare molto e con l'avanzamento della terapia del percorso la ripresa di una vita normale l'aspetto psicologico legato alla propria immagine occupa un posto sempre più importante quindi l'attenzione che la consigliera ha portato su questo aspetto è fondamentale per permettere alla donna di recuperare il suo aspetto fisico che è fortemente legato poi al benessere mentale abbiamo parlato proprio in una recente puntata anche di quanto sia importante in chi vive una malattia è una malattia oncologica anche l'aspetto estetico è il sentirsi bene con se stessi anche proprio per quanto riguarda poi un percorso di guarigione è così? si confermo direi che una donna che prova questa esperienza vorrei sottolineare che la consigliera ha fatto molta attenzione all'utilizzo della terminologia io ovviamente in quanto donna parlo delle donne all'interno del testo della legge si usa il termine persona perché come ha detto il mio collega e amico Franco ci sono anche gli uomini coinvolti in questa situazione in ogni caso l'aspetto psicologico è importante soprattutto perché si riscopre l'aspetto di essere al centro di riporsi al centro di se stessi quindi la ricostruzione del complesso dell'area capezzolo direi che è fondamentale in primis per la donna stessa e per la sua capacità di relazionarsi con l'esterno che possa partire da un rapporto con il proprio partner non dimentichiamo l'impatto sulla sfera sessuale che è la centralità del complesso area capezzolo per una donna nella relazione con un proprio partner e poi soprattutto il sentirsi donna aver recuperato la propria immagine ha un impatto che va al di là del rapporto con un proprio partner ma ha una capacità di relazionarsi di nuovo con il mondo esterno sentendosi se stesse assolutamente io vi ringrazio davvero per questa testimonianza e per quanto fate davvero grazie mille per il vostro intervento una buona serata grazie a voi buona serata arrivederci grazie ecco abbiamo sentito appunto questo coinvolgimento di Casa Brest e so anche di altre vero? sono state tante le associazioni che hanno risposto alla nostra chiamata Casa Brest è una ci sono state le dragonesse, le dragonette anche Andos e Donatea insomma anche l'associazione Luca Coscioni la cellula Coscioni di Torino ha mandato una sua memoria in merito poi ci sono state tutte le associazioni di categoria relative al tatuaggio penso alla CNA Confartigianato, Confestetica l'associazione Tatuatori sono stati tanti i soggetti che hanno lavorato a questo testo nei due ambiti come dicevo prima quello della formazione e quello della parte sanitaria di pigmentazione del complesso areola capezzolo e sono emerse tantissime cose importanti intanto la prima quella che hanno sottolineato gli ospiti questa patologia non colpisce solo le donne ma colpisce in minima parte anche gli uomini sì davvero, in minima parte l'un per cento che comunque non è poco esattamente l'uno è abituato proprio solo invece a pensare alle donne quindi esatto noi vogliamo lanciare un messaggio il primo di aumentare l'attenzione rispetto al tema della prevenzione anche al maschile e il secondo ampliare questa possibilità non soltanto alle donne ma anche agli uomini che effettivamente subiscono gli effetti fisici e psicologici del tumore quindi questa prestazione sarà gratuita, garantita a tutti e tutte e soprattutto sarà eseguita da tecnici ed esperti della dermopigmentazione formati per poter eseguire un lavoro ad arte perché c'è da dire che una recente versione esatto una recente versione di una legge analoga delegava il personale sanitario ad eseguire questa prestazione non è così perché il personale sanitario fa tantissime cose importanti ma non aveva una manualità specifico questo esatto ci va una formazione specifica e un'attenzione in particolare sul tema della ricostruzione della ripigmentazione del capezzolo ecco tra l'altro questa legge è stata approvata all'unanimità all'unanimità questo è un altro aspetto importante tra l'altro proprio il presidente della regione Alberto Cirio ha espresso grande soddisfazione rispetto a questa approvazione e devo dire che l'unanimità ha messo la ciliagina sulla torta a questo percorso che ha visto un'ampia partecipazione come dicevo prima non soltanto di associazioni ma anche di colleghi e colleghe presenti in consiglio regionali di tutte le forze politiche maggioranza, minoranza penso alla collega Zambai, alla collega Biletta che sono state le prime ad approcciarsi a questo testo e a contribuire affinché tutto fosse perfetto e coerente con quello che è il dettato normativo per noi cittadini questo è un bel messaggio davvero un bel messaggio un bel messaggio che la politica davvero si unisca devo dire che succede spesso non se ne parla tanto ma succede spesso soprattutto sui temi importanti e questo è sinonimo di garanzia anche affinché le norme possano essere fatte al meglio e condivise il più possibile poi ci sono alcuni temi che sono davvero di interesse comune ecco vediamo un po' quali sono anche gli altri aspetti abbiamo detto la formazione che è forse l'aspetto davvero più importante più accartante si passa da 90 a 1500 ore con una formazione ben specifica diventa un vero e proprio corso teorico pratico rispetto all'attività del tatuaggio e del piercing prima 90 ore come dicevo erano sufficienti poi l'operatore poteva anche decidere di fare un po' di pratica a sé con le scuole che ci sono però era lasciato un po' a se stessi questo ne va della tutela della salute dei cittadini perché ricordiamo che il tatuatore o chi esegue un piercing sono a contatto con patologie, virus possiamo parlare delle peggiori HIV, epatite insomma si è a contatto con i fluidi corporei con la persona quindi bisogna stare molto attenti quando si mettono le mani su una persona effettivamente tutelarne la salute non soltanto sì perché viene visto un po' come una cosa estetica da poco lo fanno tutti invece no, è serio assolutamente sì e gli standard di tutela igienico-sanitaria devono essere elevatissimi quindi anche i locali devono essere a norma, ad hoc la persona deve sapere non soltanto come eseguire il tatuaggio ma anche come farlo tutelando la sicurezza di chi si sottopone a tale pratica quindi questi sono gli aspetti più importanti poi c'è un altro tema che è al centro della nostra proposta di legge che è la lotta all'abusivismo c'è da dire che anche di questo abbiamo parlato recentemente proprio con l'estetista perché è un tema davvero l'estetista esatto noi abbiamo avuto un ampio confronto con l'estetista perché c'era il tema dermopigmentazione sì, dermopigmentazione no in realtà la dermopigmentazione che sarebbe banalmente il trucco permanente è competenza dell'estetista quindi non rientra all'interno di questa legge che invece parla di tatuaggio artistico per cui su quello noi ci siamo limitati a disciplinare quel tipo di attività però appunto garantendo il problema è comune il problema in questo caso è di è un problema di lotta all'abusivismo ma anche di lotta all'evasione fiscale perché di fatto queste attività sono in forte crescita e questo è positivo per la nostra regione perché si tratta di nuovi posti di lavoro di occupazione specialmente al femminile anche quindi stiamo dando un messaggio importante anche in tal senso però appunto bisogna farlo rispettando le regole con la massima garanzia per i consumatori per chi si approccia che decide di farsi eseguire un tatuaggio, un piercing o comunque una pratica di questo tipo e poi ovviamente c'è tutta la parte fiscale che insomma per le casse dello Stato non è poco quindi garantiamo anche quello ed è equo c'è un esame anche da superare giusto? quindi bisogna essere accreditati anche poi quindi e anche corsi di formazione di aggiornamento ogni 4 anni quindi come in tutte diciamo le discipline ci va una rigorosa formazione e questo l'abbiamo voluto affermare e per chi cambia idea e non vuole più il tatuaggio cambia qualcosa anche? per quello no la rimozione del tatuaggio come al solito va fatta soltanto appunto nelle strutture sanitarie quindi su questo è una pratica oggi reversibile anche con buoni risultati però va fatto nelle strutture sanitarie nelle strutture sanitarie quindi è ribadito anche esattamente su quello non cambia esatto come il divieto anche per i minorenni giusto? chiaramente ci va un informe esatto cioè i banali divieti che c'erano anche prima col consenso ovviamente dei genitori si possono passare alcune questioni però non si può eseguire effettivamente un tatuaggio senza il consenso su questo abbiamo ribadito anche il divieto sugli animali quello è essenziale sugli animali è un problema ormai superato ma nemmeno tanto quindi è giusto riaffermarla questa questione sull'animale non si mette macchinetta ecco quindi sì sì difatti è giusto perché questo invece a livello nazionale come funziona? perché diceva è un po' fumoso anche lì esatto ci sono dei temi su cui la regione può agire lo fa per prima rispetto allo Stato all'ambito nazionale che invece tentenna nel disciplinare determinate questioni questo per noi non è dato sapere come mai si sia atteso tutto questo tempo sia in regione che a livello nazionale a livello nazionale ancora si attende quindi noi abbiamo messo una pezza su un buco che però in realtà esiste e su cui diciamo Piemonte all'avanguardia possiamo dirlo Piemonte all'avanguardia e spero anche capofila sul tema del tatuaggio per pigmentazione del complesso areola capezzolo perché c'è da dire una cosa i livelli essenziali di assistenza a livello nazionale lo garantiscono ma le regioni non lo finanziano non lo finanziano noi con un regolamento vogliamo dire come sempre c'è il cappello ma poi manca però il modo di esatto ma le associazioni ci hanno anche fornito delle linee guida su quello da sottoporre alla regione affinché il regolamento possa essere steso il prima possibile quindi vigileremo anche su questo benissimo io ringrazio davvero la consigliera di sabato per quanto ci ha detto per questa legge che appunto avendo l'unanimità tutti hanno capito quanto sia importante per la nostra regione grazie ancora per essere stata qui con noi ringrazio anche i nostri telespettatori per essere rimasti qui con noi e do l'appuntamento domani sera alle 23 una buona serata di cuore a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti